Il silenzio quasi irreale in questo momento di Misano, la voce dell'AM1 di Valentino Rossi. Adesso il pubblico saluta, il pubblico sta iniziando a crederci, a crederci veramente. Il pubblico di casa, il pubblico di Misano, dopo Assem l'anno scorso. Sono passati 18 anni e 27 giorni, dal 18 agosto 1996, dalla prima vittoria nel moto mondiale di Valentino Rossi. Eravamo a Berno e adesso Rossi si appresta a diventare il pilota con la striscia più lunga di sempre, battendo proprio l'olio scappi Rossi. 18 anni e 27 anni. 2 moto della stessa casa.